Gli antivirali oggi hanno sostanzialmente cambiato la lotta al covid poiché sono gli unici farmaci che sono ancora oggi attuali, non risentono delle varianti e quindi mantengono la loro efficacia e permettono un trattamento domiciliare e ambulatoriale di questi pazienti. Quindi sono un presidio insostituibile oggi soprattutto nei pazienti con fragili o con un alto rischio di progressione della malattia.